Tuap è un progetto che coinvolge tutte le risorse, indipendentemente dalla mansione e dalla posizione gerarchica in ugual misura. Siamo in grado di trasformare il disagio fisiologico dovuto al cambiamento delle abitudini organizzative in un progetto che permetterà non solo di migliorare l'efficienza della propria azienda e la produttività, ma anche di ottenere una maggiore armonia e collaborazione tra le proprie risorse. Questo aiuterà a ridurre l'assenteismo, il turnover e i livelli di stress.